Asprocarne Piemonte è una cooperativa che raggruppa più di 500 soci, alleviamo circa 120.000 bovini da carne. Per noi il nostro punto di forza è dovuto alle filiere, ai vari disciplinari di produzione che ci permettono di etichettare, di arrivare al consumatore finale sul banco un prodotto etichettato con anche il nome della nostra azienda, grazie anche al sigillo italiano e per noi questo è il vero nostro punto di forza per garantire al consumatore e al cittadino un consumo continuo di un prodotto sano.